e buon salve a tutti ragazzi e bentornati su fenix tv oggi siamo con overboss in compagnia di bryce purtroppo dipende sempre da quello che scelgono questi qualche tipo io volevo quanto ma giocata assalto per primo avranno da non c'erano tank assalto curatore assalto assalto servirebbe in realtà servirebbe un altro tank però tre assalto per quello che dobbiamo fa forse ce la facciamo sì sì dipende come giocano questi quadro stiamo giocando con un napoletano crit e mort si chiamano così un bel nuovo saluti napoletano vi prego a prego e non lo posso salutare non possono parlare la chat vabbè sono tutti italiani c'è pure giù in google che contro proprio all'altro coincidenza napoletano si è messo con la torretta a se noi diciamo napoletano signor noi siamo napoletani di per cui è uno che non stiamo offrendo perché non è che non è che non è che non è che siamo più deficienti questi si sono piazzati con le torrette con le cose stanno sulle scale io vado a dare una mano ad abbattere di via sto andando a dare una mano pure io vaffè devasto di danni dealer dove sei abbattuto eh sì raga non ho fatto ci sono io però è un problema sono in fin di vita e anche a me ti vorrei ringraziare ok il scuratore mi ha curato grazie debbiamo se ne fare un bottone mi scusi me la sono presa io fa un culo kill ah si figuri lo sai io non sono per le kill io sono per vincere chi se ne frega delle kill ma pure su fortnite ero così se lo faccia ma se lo faccia ma a te anche perché se tu fai 30 kill però puoi perdere e riesce a arrestarsi cioè si riesce a dare una arrestata di salute al momento giusto sì quanti vuoi ora che è tutto mamma ho messo male il muro come la piazza ah mi hanno preso le spalle martellone martellone si mi ha fregato pure mi ha uscito mi ha preso le spalle no qui si in realtà si ma ottimo vero ma ho abbassato però se me piglia martellone me sgruma non me piglia ma se me piglia martellone la barriera si frantuma ah uno sulla destra ok mi ha ammazzato uno soldati e lo so solo che non ho il supporto di chi di napoletano io le ho cercato di abbatterle la torretta io sono in arrivo la sto raggiungendo ma sposta sto carico uno morto lo faccio pure il nanetto hanno fatto fuori il nanetto qualcuno riesce a prendersi la tizia da sopra grazie lo sto tenendo io ho fatto l'assist fatto fuori cioè non è che voglio fare quello che usa bene i personaggi però lei no ho sprecato la ulti dannazione ho missato il mio primo errore della partita gravissimo tra l'altro sorry per un millimetro ci siamo quasi non si provo siamo tutti lì ah ho sbagliato ah presidente mi tagli pure i ruttini perché eh vabbè non si provo la digestione incombe io lo dico sempre nell'eventualità di capire il video non è che abbiamo uno sulla destra dietro ok lo so e sto tenendo questi davanti ahia dai dietro ma qualcuno che vero che fa un po' di lavoro ah e sono dato 76 sta sparando a ma a caso lei vero dai che non si può perdere così dai forza к we who polpo pol Look è in giro 看 vi City la presenza io gli vado a dare il proprio e proprio fastidio davvero tencone sono andato frontal è lei e sto dando fastidio più di questo minchia che barrira è brutta che avevouchtato mezza sospesa A me mi hanno fatto spregare la ultima, non ci credo Perché non hanno saputo Perché non hanno saputo Non stiamo a prenderti questi Oh io li sto tenendo 3 C'erano 3 su di me Gli altri non so che stanno a fare, io ne tenevo 3 Che dobbiamo fare? Abbiamo 2 ris E uno non è che ne può ammazzare 5 E lei ci credo no Sono qui, bravi No non ne ho ammazzare 5 No 5 No 5 Io dico ammazzarne 5 a botta E non si può Se gli altri non giocano Eh non si è tolta cosa E tipo Martellone A di via A bimbo bello Bimbo bello A sta qua Ho cambiato io personaggio Dai Dobbiamo uscire dal ponte Sennò siamo come Sennò siamo in mezzo Alla si usta Divia Forza carico Ho visto Da quel nano Se riesco a prenderlo però Da là è un anetto Ho fatto un botto di tanno De via C'è pure il guaritore Non mi interessa che tank C'è il guaritore Sinceramente Visto che il tank Non sta a curare il tank Io sto a morire A me non mi stanno a dare la mano Io mi so fatto un tank da solo A me mi stanno pure a rubare tutte le kill Di nuovo Madonna come sono inutili questi Come sono inutili questi price Sennò a me Chi m'ha preso? Senti mi ha preso a caso davvero Non ci credo Sì Mi ha preso sparando a caso No Io ho un po' dei problemi Non avendo il curatore Perché tu questo è il nostro curatore Ma fa danni Giustamente Questi si sono messi con i tenconi lì E il curatore Non si fanno più prendere Ma so Grazie Grazie Sono andato a dare le spalle Ci serve un curatore Sono andato a dare le spalle Ho fatto fuori due Ho messo in fuga tutti Preside ho messo in fuga tutti Eh ma sono tornati In arrivo in arrivo Ci serve una manina C'ho uno di vita Sono in arrivo Non le posso dare una mano Uccisi tutti No 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 Dico le ho killati tutti Dove vede che azione Che ho fatto Vabbè lo vedrai dal video Se Io si me lo guardo Se lo guarda Lo guardo molto volentieri Anche perché sono i nostri video Che fai non te li guardi Ah orissa Brutto martellone maledetto Mi ha pushato Qui ti spiace Ho fatto il possibile Però mai Ho pensato alla squadra Ho cercato di dare il più fastidio possibile Tutto qui Non si preoccupi proprio Vai se si mette un guaritore Si serve un guaritore Si serve un guaritore Si serve un guaritore Si vede In arrivo Perché non sono un po' navi più Guarda una mano aspetti Tipo Tipo per uscire Ma da questa situazione Senza guaritore Non si riesce E sono dietro Ecco qua E già uno è morto Crede Sono tornato Ma il nostro DBA Che minchia sta a fa' Fatto fuori un altro Destra Alla sua sinistra L'abbiamo persa Non ci credo Eh lo so Solo che sto tenendo quelli davanti Curimi 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 Dai se ci riusciamo con questo Potremmo entrare Ci la facciamo Dobbiamo però riuscire a sforzare Questo è arrivato in ritardo Non ci credo No l'abbiamo persa L'abbiamo persa? La fame Di martellone Credo che l'abbiamo persa No? No perché li sto tenendo io Non ammazzati tutti Dai dovete fare Poi solo il nano Sto in arrivando Eh abbiamo perso Era rimasto solo Polpopolo Che ha fatto cacare Io ho fatto 6 assi Kill e 6 mila di danno Considerando che a me Ad un certo punto Appena mi vedevano Come al solito Indovina Mi uccidevano Ho fatto il devasto Volante Che lo vedo Un campo abbastanza aperto Sei tanto furbo Da mettersi un altro tank Ti prego Bello? Grazie No mi sa che non è così Oh Aperà messo il porcetto E qui serve Non serve Perché è vero che è aperto Però se va nello stretto Se va nello stretto È fortissimo Questo era il bombarolo Aspetti io la raggiungo dentro Sia lì Sia lì Io la curo sempre tanto Io li vedo E via Ora li vedo Li vedo Li vedo Decisamente li vedo Io i danni li sto a fa' Però se il porco Io però lo vado a arrestare Sti cavoli Cioè di via Lì sul lato Non le vale la pena Cioè attenzione Per come ha giocato Eh lo so Ma non li posso tenere tutti Io le sto dando una mano A tenerli Ma più di questa Non posso Ma pure io Più danno di questo Non lo posso fare Cioè il mio personaggio Più danno Di damage Di questo Non lo può fare Anzi sto a fare Delle azioni Pure Termopili Si ha visto Me lo ammazzi questo Niente da fare Perché i nostri Ombra C'è di nuovo Vada Abbiamo uno dietro Grazie Aspetti Fatto Sto rifullando pure Il porcetto Perché se no muore Ah Ma arriva la gente da dietro Ma nessuno che mi copre Vada avanti Vada avanti Non si preoccupa Eh non è andato Porced Sbagliato Tizio Ma la stiamo tenendo Per paradosso La stiamo tenendo Sì ma questi Vengono dall'alto E gli altri Non è che mi danno Tutto il suo supporto C'è attenzione Sulla sinistra Vada Ne ho due addosso Per dirsi Fatto fuori uno Ah Ma non mi ha fregato L'ultimo Con un colpaccio Alla testa A me mi hanno ammazzato Te le dico Anche a lei Sì sì ma L'ho fatti fuori Un bel po' Però mi hanno fatto Con un colpaccio La testa Doloresissimo Sì Perché i nostri Non cambiano personaggi Abruzzi E non mettendo Gente adatta Sono tutti qua Li sto a crepa tutti C'hanno una caffia a testa Però mi crepano Non sono riuscito a riportarle in vita Se dice Fa qualcosa Sto provando Sto provando Eh no Troppi Io l'aspetto Sino non ce la facciamo C'è Se qua Sì Per uno solo Erano troppi Bastardo che lì Sta a tenere Ne ha detto pure Che sta a giocare Non è che sta a giocare Ma non è che sta a giocare male Però non come dovrebbe Cioè dovrebbero fare di più Cioè i loro Stanno facendo il triplo Dei punti dei nostri Aspetti devo fare il giro Se no non mi vengo a dare una mano Eh ormai Fosse la riesco a restare Fosse riesco a restare Sta solo contro 5 No ma sto da solo contro 5 Che mi riesco a fare No perché a meno avercelo uno lì È già utile Ma ci voglio Contro 5 Ecco sono morto C'è già qualcosa Ne ho eliminato uno Però sono morto Stiamo a questi 4 minuti Non è che si cambiano Capiscono che ci serve un altro healer Questi No Hanno capito che due tank sono utili Ma non che due healer sarebbero la vita Perché cercare risposte Senza conoscere le domande Sigma C'è Perché un aiutino Sulla destra Guarda a destra Eh sto arrivando Che stanno tutti Non li prenda Eh non se ne preoccupi Aspetta questo sta qua sopra Mi stanno già occupando Cioè io per esempio Che muove pushano no Se avessi un team Linea teorica Ti avrebbe aiutato Questi pushano i 5 Non so se ha visto Usciano in 5 A noi non c'è nessuno Beh la partita dipende Da come giocano gli altri Se gli altri non azzeccano E io sto facendo del mio meglio E letteralmente Io sto giocando Sto cercando di fare La cosa La più Migliore possibile Ma lei sta facendo il suo Però loro Cioè prima ha visto Mi hanno pushato in 5 Qualcuno Aspetti le vengo a dare Una mano da sopra Mi fa da un fastidio Mi fa dei danni Sto mettendo i danni Vada 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 In alto Andiamo uno sulla destra Faccio attenzione Lo so Solo che gli ho fatto La ultima Uno l'ho messo in fuga L'altro Poi lo sto a mettere in fuga C'ha un HP Non passano da sotto Venga Venga da me Scendi Io mi metto qua No Stanno qua Come immaginavo Sono scemi Abbiamo due sul lato No S'ho caduto nella pozza S'ho caduto nella pozza Ah perchè sul lato Stavo solo io Nessuno mi ha venuto aiutare Però poi L'ho vista morire male E sono fuggito No no Nessuno intendo Gente che non sia il curatore Dai raga 47 Se non mi ce la fata Difendere Per favore In più le ce la facciamo Non ce la facciamo Stanno le porte Torna dentro No due minuti È diventato L'abbiamo preso nel culo L'abbiamo presa In quel post L'abbiamo presa In quel post Però se Possiamo comunque Farlo tornare dietro Che tu ci credo No Qui torna dietro Se riusciamo a farlo Andare dietro al checkpoint È sempre Un punti extra Per noi Lei c'è? Serve una mano Aiuto Eh sto affrontando L'altro Sigma Sto affrontando Due tank da solo Ci sto provando A restarla Sto arrestando Sto arrestando A tre di loro Contemporaneamente Non ci credo A fare la barriera La barriera è vevole C'è Sigma addosso Purtroppo Purtroppo i nostri Non capiscono Che non va bene così So pure io Un tank Perfetto Si metta Si metta 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 con le line tank Ah io contro Sigma faccio poco Però Sigma fatto Ammazzare DBA C'abbiamo DBA Trovata Morta Morta Ma Ma Grazie Che tryhardata Di nuovo Di nuovo Sessimila Settimila punti L'ho fatta io Davvero non ci credo Ah prima Condivia Direi che per questo video Di overwatch Possa essere tutto Lasciate un commento Iscrivetevi Se non siete iscritti Iscrivetevi ancora di nuovo Nuovamente 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 Lasciate un mi piace Condividete il video Ci vediamo al prossimo video Un saluto da Felice Ebraice Un saluto da